E' Gianluca Trombetti il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno. Il colonnello 47enne, originario della provincia di Caserta, ha preso il posto del colonnello Antonino Neosi, che ha lasciato Salerno dopo tre anni di attività. Trombetti, formatosi alla Scuola Militare Nunziatella di Napoli e poi laureatosi in giurisprudenza, è reduce dall'esperienza a Roma all'VIII Reggimento Mobile Lazio. Sotto il profilo della prevenzione e repressione dei reati so che ci sono tante realtà diverse. Ad esempio la provincia nord del Salernitano ha problematiche che non sono presenti nella provincia sud, ma l'approccio che vorrei continuare e preservare è un approccio individualizzato rispetto alle singole problematiche. E quindi elaborare dei progetti di intervento che siano individualizzati sui fenomeni criminosi delle singole aree. Questo chiaramente con un patrimonio informativo che sicuramente vorrei continuare a sviluppare e con delle linee di intervento che vadano condivise, come dicevo prima, con tutte le forze in campo. Forze in campo, e parlo non soltanto di forze di polizia, ma parlo anche delle altre istituzioni. Quindi preservare quella rete interistituzionale di attori pubblici coinvolgendo anche gli attori privati che talvolta danno delle chiavi di lettura che sono molto utili per noi forze di polizia affinché possiamo svolgere nel modo migliore il nostro mestiere. Il nostro mestiere è prevenire le prime reati, il nostro mestiere è supportare la cittadinanza, sopportare le comunità, il nostro mestiere è rassicurare le persone fornendo un servizio di prossimità quanto più competente possibile. È un progetto che ritengo sicuramente ambizioso, ma che con le competenze che il Comando Provinciale di Salerno ha a disposizione può condurre. In questo chiediamo, e questo parlo a nome del Comando Provinciale, chiediamo sempre comunque alla collaborazione dei cittadini. Senza la collaborazione dei cittadini tutto quello che ho detto rimane una lettera morta. Quindi in primis il cittadino deve fornire la sua collaborazione e noi ci porremo a sua disposizione affinché insieme riusciamo ad ottenere il nostro risultato. Io sono della scuola del coordinamento, quindi io credo tantissimo nel coordinamento tra le forze di polizia e quel coordinamento collaborativo che nasce sì dalla sussidiarietà, ma quando è necessario va adottato e va adottato per la tutela della comunità. Quindi laddove c'è necessità verrà sicuramente adottato, questo è il mio approccio. E laddove siamo noi, l'unico presidio di polizia, cercheremo di fare il massimo affinché il territorio sia sempre vigilato. Grazie.